Fase cruciale al comune di Venafro. Aperte le urne e proclamati 16 consiglieri, il prossimo step è quello della giunta. In queste ore il sindaco riconfermato Ricci sta lavorando alla definizione dei cinque componenti della squadra, che avrà l'onore e l'onere di amministrare la città per i prossimi cinque anni. Lo abbiamo detto in un precedente servizio, il primo cittadino, nell'intento di motivare ed impegnare tutti, evitando mal di pancia alla lunga, potenzialmente pericolosi per la tenuta della sua maggioranza, conferirà incarichi a ciascuno degli 11 consiglieri. Innegabile però che le cinque deleghe, tra e senza virgolette con portafoglio, quelle assessorili, siano particolarmente ambite in questa fase, che all'inizio abbiamo definito cruciale per un motivo in più. Le ingenti risorse del PNRR in arrivo consentiranno agli assessori, con l'indirizzo del sindaco, chiamati a trasformarle in opere e infrastrutture, di lasciare un segno tangibile nel miglioramento della città. Che i cittadini associino, oltre che a quello del primo cittadino, il nome dell'assessore di turno, al restyling materiale o in termini di nuovi servizi attivati a Venafro, comprensibilmente sarà motivo di orgoglio per gli amministratori interessati. Ma chi sceglierà Ricci? Nel corso e a caldo dopo la campagna, il sindaco ha fatto sapere di voler assecondare la volontà espressa dal cittadino elettore nell'urna. Il criterio porta all'assegnazione delle deleghe ai primi cinque eletti, con il sesto chiamato all'incarico istituzionale di presidente dell'assise di Palazzo Cimorelli. In quel caso e nell'ordine Marco Valvona, Angela Maria Tommasone, Marina Perna, Oscar Simeone, Antonella Cernera e Dario Ottaviano, i prescelti, tutte figure rodate, da una pregressa esperienza amministrativa a Palazzo Cimorelli, da almeno una consigliatura. Al momento però la lista di Ricci non è ancora stata stilata. Di fretta non ce n'è, visto che con l'amministrazione uscente riconfermata, l'attività amministrativa sta proseguendo senza interruzioni. La nuova giunta, con tutta probabilità, sarà varata all'inizio della prossima settimana. Anche se non lo ammetterebbero mai, tutti e 11 consiglieri di maggioranza sono con il fiato sospeso. Qualche sorpresa potrebbe sempre esserci.